2. L'intensità 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 Dove tu vuoi andare? Ma per me è buonato, Giacca. Da qui sotto magari c'è un torino. andiamo a mangiare un hamburger io non capisco che differenza trovo dal singolo al coppia veramente si ma ma perché trovi più gente mongola ogni tanto gente che tipo va in giro a pobacciata le nuove di centina le faccio ogni cazzo di partita no no ma coppie anche io non riesco a giocare a differenza che gioco sempre a squadra tipo a squadra ragionano di più non ti puccino come porci le coppie sembrano degli avvolti di merda batterla uno e arrivano in 40 infatti ogni tanto quando sono quegli altri preferisco andare piuttosto in due contro quattro ma non mi mangio l'anima coppie allora il segreto è non sparare con la scarra aspetta c'è uno merda dov'è l'altro figlio di puttana minchia mancia si entra la granata però gli switch sono troppo cagare cioè dai io non posso premere due volte velocemente che con l'arma si bug e con le costruzioni si bug non sente cazzo i cassetti di munizioni ci stanno qui c'è uno scudo oh Gesù Cristo è tutto buggato davanti a noi davanti a noi qua il benzinoio non è certo ma per tanto non troppo la porta ecco 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 l'amico frizzino tra l'albero C'è un medikit Preso No, 3 di medikit Stanno litigando qui sopra La montagna Perché non mi moriva contigo Poi c'ho il pompa singolo che non mi piace No, più che altro quando iniziano a saltare Può avere anche il pompa più veloce del mondo Che fa essere un nervoso di quelli Della montagna S Guarda, non so andare a montagna Sono qui sotto Ah, sì, guarda lui lì che corre Mettato Eh, sono un coglione, mi sa Ah, c'è un sacchettino, eh Non so dov'è Ah, nell'albero oggi in fondo S Il secondo Mi tiene dopo questo coglione Niente, continua No, non ci credo Il punto è che anche noi non stiamo in safe Beh, però siamo più vicini C'è un altro team che li stanno andando a rompere il cazzo Aspetta Guarda lì Ok, sono massacrati Ok, sono massacrati Mettato due volte Sì, pure È fuori safe Sì, sì C'ho 88 munizioni, però Non posso Cioè, non Anche io Ascolta, metto quella C'è un altro team dietro, eh Gli stanno andando dietro Ho messo la jump Così scappiamo poi Ci andiamo Oh, zio Sto uscendo Beh, andiamo Dai, jumpiamo Vieni Fortino 3-30, mi sa Dietro la collina Farsi le munizioni Lì c'è gente Tuttate Due headshot Sopra la montagna pure Sono straiscondati Occhio, occhio sulla montagna No, niente Non c'ho più munizioni Una terra Non ci credo, zio Mi ha costruito Eliminato? Oh, cazzo Mi tiro una mano Mi rocchetta Questa No, stanno litigando Sono ancora quelli Sopra la montagna Mi sa Però c'è sette munizioni Non va bene Oh, c'è davanti Arriba, arriva Arriba, arriva Amico Povero come la merda Sono 63 C'è 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 Hittato se non gli entrano i colpi la terra arrivo 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 anzi sono dovevamo noi al nostro jump al nostro jump grazie siamo sotto male dove bere barile non c'ho vita dai dai non fanno sei cazzo di secondi aspetta buona vita uno se jumpa ne è finita tagli la jump se riesci vittato ok non c'è più la jump non ho più colpi della r vittato uno cazzo è one shot è one shot è one shot di push up è qua da me è qua da me è qua da me sì è one shot fattolo di prego grande l'orsacchiotto figa non c'è più non c'è più